Ciao ragazzi, questo video è in collaborazione con il brand IMIM che gentilmente mi ha omaggiato di questo kit per il contorno occhi, è un'azienda americana e nello specifico di Las Vegas mi ha inviato un kit questo è lo scatolo che ovviamente conteneva il tuo che io ho già iniziato a utilizzare da esattamente 15 giorni circa queste sono le boccette siero e contorno occhi, il pack come vedete è in vetro scuro qui è un vetro diciamo farmaceutico che protegge maggiormente il prodotto dalla luce e vi faccio vedere la consistenza, questo è il siero ok è abbastanza liquido ma è molto idratante allo stesso tempo però si asciuga subito è molto leggera come texture, non appesantisce ecco io mi sto trovando bene stasiero ovviamente adatto per forse contorno occhi magari con un colorito abbastanza evidente molto diciamo pesante e contrasta appunto il confiore, aiuta il microcircolo proprio della zona qui per il oculare mentre questo è il contorno occhi crema che ha questo tappo molto comodo devo dire perché rimane sempre protetto bisogna metterne proprio un pump così come viene fuori in automatico dalla boccetta e anche questo è una texture molto leggera e si asciuga anche questa subito questo lascia una sensazione di modo di idratazione ma allo stesso tempo non appesantisce e questo ovviamente contrasta le linee d'espressione, le rughe, le prime rughette insomma è un prodotto anti-aging e contengono entrambi dei principi attivi che permettono appunto di contrastare l'effetto del tempo sul nostro contorno occhi, vedete? vedete? si assorbe con molta facilità, devo dire che mi piacciono veramente tanto io vi lascio giù in descrizione il link diretto perché li potete acquistare su Amazon e anche il codice sconto che Yimim mi ha offerto da dare a voi lo trovate sempre giù in descrizione quindi io vi saluto e vi lascio al video, ciao! ehi! ciao! come stai? ok tranquillo allora ci penso io a eliminare, a portare via tutte queste energie negative dal tuo viso, ok? quindi rimani proprio in questa posizione e adesso ci penso io, non c'è problema, ok? ok? non c'è affatto alcun problema comincia a respirare innanzitutto comincia a respirare respirare ok? ok 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 ovicino ok 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 rilassati all'altro tempo con questa respirazione è proprio la prima fase quindi mi raccomando mantieni sempre un respiro costante ok, bene se vuoi abbassa ancora un po' di più la luce preferisci ancora più bassa ok va bene così bene allora cominciamo a pezzare con le mani innanzitutto e poi andremo a rimuovere quelli più piccoli 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 una vera pizza ok 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 vediamo adesso di prendere le parti più difficili L'acqua, l'acqua... Ok, adesso... spolveriamo un po' i residui di queste energie negative, ok, quindi puliamo tutto. Ok, adesso... Alla nostra pacchetta di serenite che passeremo tutto sotto il peso in questo modo. Alla... Tu rilassati... Tu rilassati... Tu rilassati... 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 Passerà questo cristallo... Rilassati... 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 ok, sono tutti i bordi per tuo viso questo punto tu rilassati ok, adesso ti passo un po' di olio sul viso ok, per distenderti, per rilassarti e iniziare la fase invece del sonno per farti addormentare, ok? si ti ripassero le mani così intanto ferme, bloccate sul tuo viso per trasmetterti un po' di calore e quindi per distendere i muscoli facciali si è costumato allora rilassati mi raccomando mi raccomando rilassati 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 questo modo di massaggiarti dall'alto ti piace di più rispetto al massaggio tradizionale che si è venuto a vedere qui sul mio canale quindi se invece preferisci questa impostazione questa angolazione che forse ti rilassa anche di più visivamente mi raccomando e per ultimo ti voglio aggarezzare con questo fiore così molto delicato ciò lei dico un po' altro piacevole spero che tu lo senti veramente torno sss torno sss torno sss sss torno sss torno 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 Grazie. Rilassasi un altro tempo con questa respirazione, è proprio la prima fase, ok? Quindi mi raccomando, mantieni sempre un respiro costante, ok? Bene. Se vuoi, abbassa ancora un po' di più la luce, tipo tu preferisci ancora più bassa? Ok? Va bene così? Bene? Cominciamo a pezzare con le mani, innanzitutto. E poi andremo a rimuovere quelli più piccoli, 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 con una vera pinza. Ok? 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 Etc? Ok? Grazie a tutti. Sì. 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 rilassati 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 adesso passerò questo cristallo di quattro Grazie a tutti. Ok. Bene. Adesso ti faccio anche delle tapping con le occhie sul viso. Ok. Sono tutti morti sul tuo viso. Ok. Ok. Adesso ti passo un po' di olio sul viso. Ok. Per distenderti, per rilassarti e iniziare la fase invece del sonno, per farti addormentare. Ok. Ok. Sì. Ti appassero le mani così, intanto ferme, bloccate sul tuo viso per trasmetterti un po' di calore. Ok. E quindi per distendere i muscoli faciali. Ok. Ok. Rilassati. Mi raccomando. Mi raccomando. Mi raccomando. Rilassati. 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 Noi, no, no. Non confrarti l'alto. ti piace di più rispetto al passaggio tradizionale che si è arrivato a vedere qui sul mio canale quindi se invece preferisci questa appostazione questa angolazione che forse ti rilassa anche di più visivamente intanto continuiamo a respirare mantenere il respiro costante mi raccomando mi raccomando e per ultimo ti voglio aggarezzare con questo fiore così molto delicato per fronte c'è l'edico che altro piacevole spero che tu lo senti veramente non è non è non è non è non è senza ci sono dark sh dark 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 Buonanotte